Anima mia, fai in fretta, ti presto la bicicletta ma corri e con la gente ti prego sii prudente non ti fermare a parlare smettendo di pedalare. Piero, hai il cappotto di Giorgio Caproni, guarda! Teti devi mettere nella testolina che la cultura non porta soldi, baini, hai capito? Quindi la devi smettere di leggere, 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 pensa piuttosto a finire la scuola e a trovarti un lavoro, perché già qui è un casino, poi se ti ci metti anche te... E' bello il cappotto, aveva anche buon gusto. Non me lo tollerò mai, resterà sempre con me. Dov'è il cappotto? Dove l'ha buttato? Comunque mi presento, Giorgio Caproni. Caproni? Ok.